La sessione del quarto d'ora accademico, visto che siamo in presenza anche di diversi accademici, tra cui il nostro ospite curatore della mostra, professor Tanzi. Iniziamo però ora, il sindaco e il dottor Stefano Vittorio Cunci raggiungeranno a minuti. Grazie di essere qui oggi, presentiamo sinteticamente qui in white room, mi scuso per il cambio di logistica, purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema tecnico in auditorium, ma ugualmente siamo riusciti a recuperare qui. Presentiamo questa mostra dal titolo, per me molto bello, sono molto soddisfatto, originale di questo, il senso del nuovo. La Tanzio Gambara, pittore manierista, che è un progetto culturale, una mostra, da domani al 20 febbraio, che origina da una grande novità per la città, per le sue collezioni civiche, per la fondazione stessa, origina infatti da un acquisto importante di un'opera che è l'opera principe, di questa selezione molto curata, che più tardi visiteremo, e che dall'inizio di quest'anno è entrata nelle nostre collezioni di un artista identitario, importante di cui le nostre collezioni civiche vresciane mancavano di un'opera di soggetto sacro. Dunque, da quest'idea di un acquisto, poi formalizzata insieme al Comune, l'abbiamo tenuta nascosta e siamo partiti con l'organizzazione di un programma culturale che consentisse a questo artista, a cui sono state dedicate pochissime mostre, potesse diventare un ulteriore strumento di rilancio del nostro patrimonio identitario, ma soprattutto della nuova attenzione che stiamo ponendo da qualche mese a questa parte con la ripartenza delle attività sulla Pinacoteca Tosio-Martinengo, a cui quest'opera, diciamo, semanticamente, evidentemente afferisce. Dunque, vi ringrazio nuovamente per essere qui, introdurremo i caposaldi di questo progetto, ma lascio per l'introduzione del progetto culturale la parola alla Presidente della Fondazione Brescia Musei, Avvocato Francesca Bazzoli. Buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Sono felice oggi che torniamo a parlare di un nostro pittore identitario dopo essere stati sui giornali di tutto il mondo per Badiu Ciao, che è ancora su che vi aspetta per chi non l'avesse visto, e tutte le polemiche che ne sono seguite. Qui abbiamo l'altra faccia della medaglia dell'impegno costante e continuo della Fondazione sull'accrescimento di consapevolezza sul valore del nostro patrimonio identitario e quindi dei nostri pittori identitari, tra cui Lattanzio Gambara. Qui oggi, secondo me, abbiamo l'occasione di celebrare una doppia restituzione alla città di questo grande artista, perché l'opera che abbiamo scoperto, grazie al professor Tanzi, che è qui con noi, che l'ha segnalata a Roberta Daz, la nostra capocuratrice, che immediatamente i due insieme hanno detto che era un'opera in un catalogo di un'asta d'antiquariato, di pittura antiquaria, dove non era attribuita al Gambara, ma era attribuita a un anonimo cremonese. È stata identificata immediatamente dai due grandi esperti del Gambara come un'opera attribuibile al Gambara, anzi un'opera di cui si sapeva la storia, perché era nella chiesa di San Bartolomeo a Brescia, sull'altare. E quindi, forti di questa scoperta, ci siamo immediatamente detti con il Consiglio della Fondazione, il Comune, qui dobbiamo riuscire a ottenerla, a seguito di una trattativa sterrata del nostro direttore con la Casa d'Aste, ci hanno oggettivamente fatto un prezzo di convenienza, per fortuna, perché comunque il fatto che siamo istituzione museale ovviamente facilita questi passaggi, in più in questo momento le opere classiche, paradossalmente, sono tranne i grandissimi capolavori, ma le opere classiche un po' meno conosciute, sono paradossalmente infinitamente più a buon mercato dell'opera e dell'arte contemporanea, quindi anche con le nostre forze siamo riusciti a fare questo acquisto che ci riempie di orgoglio, perché credo che davvero la missione del museo sia anche quello di arricchire costantemente le sue collezioni, quindi celebriamo la restituzione di un'opera al Gambara e la restituzione della stessa alle collezioni della nostra città, che oltretutto grazie a quest'opera la rappresentazione del Gambara nella Pinacoteca si arricchisce anche dell'aspetto perché il Gambara è rappresentato in Pinacoteca con le opere di carattere più profano, qui abbiamo un'opera sacra che quindi completa in modo perfetto la nostra conoscenza del Gambara in Pinacoteca. In più, questa mostra è anche l'occasione per ospitare un'altra opera molto importante del Gambara che io ero abituata a vedere nelle sale del consiglio di Ubibanca a Palazzo Martinengo Villagana la conversione di Saulo, che anche qui devo dire la vita è sempre piena di sorprese, succedono cose diverse da quelle che uno si aspetta, per cui quando abbiamo avuto la sorpresa di vedere Biper, consentitemi di dirlo qui in modo un po' informale, che sbarcava in quello che era al tempio della Banca San Paolo di Brescia ci è venuto tutti un po' un colpo, anche pensando a questi modenisi che sbarchano a Brescia, anche pensando al patrimonio di opere che lì è costudito. Il risultato è che una delle opere principali che nella sala del consiglio oggi è disponibile per tutti i bresciani, ancor di più di com'era disponibile all'interno del Banco di Brescia e poi di Ubbi. Questo grazie all'impegno di cui voglio ringraziare davvero il dottor Cun e il dottor Veggio che sono qui presenti e Biper tramite di loro, che la nuova banca sbarcata a Brescia ha assunto immediatamente nei confronti del territorio bresciano di collaborazione massima e oltre a questo prestito in realtà noi con Biper stiamo sviluppando un progetto di lungo termine di cui poi a tempo debito daremo comunicazioni ma davvero io voglio ringraziare la banca di questa disponibilità assoluta che mostra nei confronti del nostro patrimonio e della città di Brescia. Non per nulla a Biper sono rimasti qui presenti sul territorio due persone che erano i nostri riferimenti in Ubi. Quindi siamo felici della continuazione di questa collaborazione che addirittura si intensifica. Siamo felici di tornare a parlare di un nostro pittore identitario nel cui merito però io lascio la parola agli esperti. Grazie. Grazie Presidente. Sì, in effetti la Presidente ha anticipato anche i termini di questa trattativa importante che ci ha portato a portare in città il meraviglioso compianto che vedrete allestito anche in una maniera adeguatamente teatrale e in questo voglio già ringraziare fin d'ora per il contributo importante che hanno dato in un allestimento che voleva valorizzare questa opera insieme a un nucleo ristretto di altre opere di quel soggetto che illustrano l'evoluzione stilistica di Lattanzio Gambara gli architetti dello studio Top Tag. Poi al termine della presentazione li nominerò perché è corretto ricordare che questi progetti sono progetti corali di grande spessore che fanno veramente crescere le competenze anche del nostro museo. Museo che ha intrapreso, come anticipava la Presidente, come fondazione comune una strategia di lungo corso destinata proprio anche agli arricchimenti di queste già cospicue collezioni di capi d'opera. Brescia è una delle città che può vantare numericamente oltre che qualitativamente una delle collezioni civiche più ampie tra i grandi comuni italiani, oltre 95.000 capi d'opera delle collezioni bresciane. Lascio dunque la parola all'assessore alla cultura Laura Castelletti, vice sindaco. Buongiorno e benvenuti a tutti. Dico con grande soddisfazione che oggi l'amministrazione comunale con Brescia Musei sono in grado di offrire ai bresciani e ai tanti turisti che abbiamo visto visitare la città. Da un lato, sono salita prima a dare così un occhio anche alla mostra che andremo a inaugurare, da un lato un artista internazionale, lo richiamava la Presidente Badiccio, contemporaneo. A fianco un piccolo gioiello e uno scrigno, professore, uno scrigno che parla della nostra identità, che parla di un pittore del passato. Sono anche molto contenta, siamo molto soddisfatti perché continuiamo a incrementare il patrimonio della nostra città e dei nostri musei. Questa è una soddisfazione, è una bella notizia. Qualche mese fa è stato per l'Opera di Paglia, ho visto presente il professor Anelli che è stato l'anima di quel progetto, ora nel Salone della Croce Bianca, poi l'acquisizione di Francesco Vezzoli in Aniche Metafisica, ora l'Attanzio Gambara. Questo per dire che la città investe dal contemporaneo all'antico, ma sempre nella direzione di un forte dialogo con la nostra storia, con le nostre radici, con la nostra identità e con la nostra produzione artistica, del contemporaneo e del passato. Con l'Opera di Lattanzio Gambara in particolare poi andiamo a ricostruire un brano di storia della cultura figurativa bresciana, e questo è un passaggio molto importante. Un artista che come sentiremo ha operato con numerosi lavori nella nostra città, ma ha anche saputo andare soprattutto nella seconda parte della sua esistenza, andare oltre confine, ha lasciato il segno oltre la città e la provincia con delle commissioni importanti in centri di rilevanza assoluta. La mostra ci racconta anche di una città, di un territorio aperti al dialogo, capaci di intercettare pensieri e visioni nuove, e questo va in qualche modo nella direzione del lavoro che stiamo operando nel 2023 anno di Capitale Italiano della Cultura, Brescia e Bergamo, dove noi siamo appunto chiamati a raccogliere la sfida del confronto, a raccogliere la sfida della cooperazione e a raccogliere la sfida dell'inclusione. Voglio dire anch'io un grazie alla presenza del dottor Kuhn, ci ha sempre accompagnato nella veste precedente, nelle progettualità e nei percorsi culturali, l'abbiamo sempre detto che non era solo e soltanto un sostegno economico, ma era presente la volontà di vivere la progettualità della nostra città e valorizzare il nostro patrimonio. Quindi mi fa molto piacere ritrovarlo anche nella nuova veste, con la stessa attenzione, la stessa sensibilità, lui e il gruppo di lavoro che lo affianca. Questo vuol dire anche rispetto ai progetti futuri, alla valorizzazione del nostro patrimonio, costruire un'alleanza sempre più importante, sempre più positiva per la nostra città. Grazie Assessore. Oltre alla conversione di Saulo dalle collezioni Biper, questa mostra dossier presenta anche altri capolavori, in particolare desideriamo ringraziare anche gli altri prestatori, le Gallerie degli Uffizi e le Gallerie Reali di Torino, oltre a un collezionista privato. E naturalmente in mostra troverete anche alcuni altri lavori che sono già parte delle collezioni civiche, tra cui l'autoritratto di Gambara, che in questo progetto necessariamente deve assumere un volto, e altri strappi di soggetto profano molto belli, molto in linea anche con evidentemente lo stile da cui Gambara aveva tratto ispirazione, per poi trasformarlo, che in buona parte è riconducibile anche a un altro grande maestro che ben conosciamo, come Girolamo Romanino. Dunque un ringraziamento agli importanti prestatori e la parola a questo punto al dottor Stefano Vittorio Cun, per BIPER, coordinatore commerciale e territoriale di BIPER. Prego. Buonasera, buonasera a tutti. Io ringrazio il Presidente, ringrazio il Vice Sindaco per le belle parole, ma noi in un senso di assoluta continuità, quindi io ci tengo a sottolineare questo, ci consideriamo custodi delle opere, quindi nulla di più di questo, quindi tutte le collaborazioni che abbiamo in campo e che prossimamente metteremo in campo come BIPER Banca con Brescia Musei, per noi rappresenteranno senz'altro un'opportunità e un onore di poter collaborare con Brescia Musei. Ecco, io tengo a precisare che, quando parlo di continuità, mi piace sottolineare che il 95% della struttura che in precedenza sussisteva su Brescia è oggi all'interno di BIPER Banca, che è il terzo gruppo bancario nazionale. Quindi per noi rappresenta, fatemi dire, un mantenimento di una sottile linea rossa che proseguiamo a mantenere viva in assoluta attenzione. Quindi grazie per la collaborazione, l'abbiamo fatto molto volentieri, ma sono assolutamente certo che questo potrà essere fuoriero di ulteriori sviluppi. Da ultimo, fatemi dire, lo dico con un'osservazione totalmente neutra, rappresenta, credo, Brescia oggi una centralità nel mondo culturale nazionale, non soltanto Lombardo. Io ho per l'incarico che oggi ho una visione nazionale e vi devo dire che mi viene difficile trovare, fatto salvo probabilmente alcune istituzioni nazionali nei grandi aree metropolitane, qualcosa che possa solo avvicinarsi alla vivacità e alla capacità di proposizione che oggi Brescia ha. Quindi questo è un elemento in più per noi distintivo di essere qui oggi. Grazie a tutti. Grazie, Dottor Kuhn. È molto importante questa vostra presenza per noi. Veniamo ora a raccontare il progetto espositivo che inevitabilmente prende le mosse proprio dalla vicenda dell'acquisizione. Desidero ricordare che evidentemente questa è una mostra che ha consentito anche di fare il punto sull'artista, sulla sua produzione sacra, ha permesso di pubblicare con il nostro editore di appoggio Schirà un ricco catalogo con molti apparati che evidentemente è a cura del nostro curatore, il professor Tanzi, con la collaborazione di Francesco Ceretti e di Filippo Piazza. Ricordo anche, prima di passare la parola al professore, che l'occasione della mostra è stata anche proficua, come è tipico dei momenti di taglio, diciamo, espositivo, ma anche scientifico, per l'effettuazione di due restauri che sono stati compiuti su queste opere. sono stati compiuti appunto un, diciamo così, restauro che ha consentito all'opera che abbiamo acquisito di assumere la bellezza e la pulizia, la lucentezza che potrete esplorare, che è stato realizzato da Luisa Marchetti, che ringrazio, dello studio Marchetti e Fontanini, e poi la possibilità anche di restaurare l'opera che ci è stata prestata dalle Gallerie Reali di Torino, il trasporto di Cristo nel sepolcro, realizzato da Coinet, Conservazione e Beni Culturali, che ricordo di fatto in questa mostra viene attribuito per la prima volta all'Attanzio Gambara. Quindi una mostra che ha determinato, un'acquisizione che ha determinato nel corso di quest'anno, che si va a concludere con la mostra, un lavoro di approfondimento scientifico, di studio, di ricerca attraverso il restauro, importante, anche questo da ricordare. Lascio dunque con piacere per un racconto alla sua maniera ricco, brioso e estremamente avvincente come fu per me l'ascolto della proposta quando la costruimmo a inizio dell'anno, al professor Marco Tanzi. Vi ringrazio per la presentazione, mi alzo in piedi così posso mostrare a tutti gli effetti del Covid sulle panze degli studiosi italiani. Per me è un onore, un piacere e soprattutto una specie di grande amarcord di tutta la mia carriera di studioso tornare a Brescia per un evento legato al Gambara. Questo perché? Perché la mia tesi tra il 79 e l'81 mi portò a Brescia visitare tutti in pratica i palazzi privati bresciani studiando la decorazione neoclassica di Teose e Manfredini, due pittori, uno cremonese e l'altro bresciano che invasero in maniera torrenziale i palazzi le dimore bresciane come titolo di quella famosa serie di Fausto Lecchi pubblicata appena prima della mia tege appena prima della morte di Fausto Lecchi e molti di questi palazzi contenevano gli affreschi del Gambara e mi furono come anfitrioni e mi aprirono tutti i palazzi di Brescia appunto Luigi Lecchi all'epoca che voglio ricordare e una mia cuginetta che adesso avrebbe 99 anni che era Claudia Tosana che aveva farmacia in Piazza Sant'Alessandro e che era molto a quale ero molto affezionato e io entrai in tutte le case di Brescia allora per dire c'era un ciclo di affreschi di uno di questi pittori a Cremona non riuscì a vederlo mi fu proibito di entrare mentre qui vedi tutto questo è una parte della Marcor perché poi ebbi varie collaborazioni con Brescia ci veniva sempre molto volentieri a studiare perché c'era una biblioteca fornitissima una fototeca attrezzatissima c'erano Ugo Spini la Giuliana la Piera insomma tutti i personaggi con cui ho avuto rapporti sempre molto simpatici e amichevoli che si sono poi protratti anche con le altre la Tanzio Gambara invece è stato il protagonista di un libro che ho scritto ben 30 anni fa nel 91 un anno importante per i miei studi e in quel caso fu un libro sul ciclo affrescato nel Duomo di Parma il ciclo probabilmente più importante di questo pittore bresciano il ciclo era stato appena restaurato ci sarebbero tutte delle come dire dei retroscena che farebbero ridere un po' ma non ve li sto raccontare e poi non me ne sono in pratica più occupato ma la cosa che mi ha sempre colpito e impressionato molto è che Brescia non conosce Gambara o lo sottovaluta la Tanzio Gambara è uno dei principali pittori della maniera nell'Italia settentrionale è un pittore di altissima qualità e di aggiornamento stilistico continuo perché è così poco conosciuto o apprezzato da una parte a Brescia da una parte in una storia più vasta della maniera nell'Italia settentrionale primo perché a Brescia ha lasciato pochissime palle d'altare gli affreschi di molte chiese sono stati distrutti dopo la soppressione delle chiese e i palazzi privati dove c'è la gran parte delle opere profane non sono stati visitati da un pubblico diciamo vasto se non dai frequentatori di queste famiglie basterebbe che la Bazzia di Rodengo fosse in Brescia e Gambara salirebbe già nella considerazione della diciamo di un pubblico più vasto ma poi c'è anche il fatto che la più grande impresa di Lattanzio Gambara è la decorazione dell'intera navata del Duomo di Parma cioè chilometri quadrati di pittura e ha un livello elevatissimo di qualità i parmigiani però hanno Correggio e Parmigianino hanno l'Ecole de Parm che è come dire se la portano in palmo di mano come se non ci fosse nessun altro pittore però perché nel Cinquecento nella seconda età del Cinquecento negli anni Sessanta del Cinquecento le due imprese principali a fresco che sono realizzate a Parma non sono di pittori parmessi la cupola della steccata con il suo tamburo è affrescata da un cremonese pavese che si chiama Bernardino Gatti detto il Soiaro e comincia a parteciparci anche Gambara per alcuni monocromi la navata viene affrescata in non mi ricordo se 13 14 arconi giganteschi tutta dall'attanzio Gambara e la controfacciata straordinariamente illusionistica dall'attanzio Gambara che poi lavorerà anche in palazzo La Latta con un'allegoria della battaglia di Lepanto diciamo molto puntuale molto diciamo sul fatto perché la battaglia di Lepanto è del 71 e lui sta lavorando a Parma dal 67 al 73 dunque c'è appena stata la battaglia e lui affresca per cui se il ciclo di Parma fosse stato a Brescia noi parleremmo molto più ampiamente di Gambara non solo Gambara è attivo a Cremona con una pala con la deposizione di cui noi qui vedremo una coppia parlerò un secondo anche di quella in San Pietro al Po e per San Pietro al Po insieme a Cristoforo Rosa che è uno dei più grandi quadraturisti bresciano del 500 che lavora alla libreria Marciana Venezia poi su Cristoforo Rosa aspettiamo la famosa monografia da Filippo Piazza che sono molto contento che abbia partecipato a questa impresa vi dicevo la Tanzio Gambara e Filippo Rosa devono affrescare tutta la chiesa di San Pietro al Po dei canonici lateranensi di Cremona non lo fa perché sta facendo nello stesso tempo gli affreschi sta affrescando a Parma non solo a fine dicembre del 1560 si trova diciamo nello studio del notaio in uno studio di un notaio di Mantova seduti in sala d'aspetto lui e Paolo Veronese lui e Paolo Veronese devono eseguire tre pale a testa per la chiesa di San Benedetto Po San Benedetto in Polirone cioè uno dei centri più importanti non solo del rinnovamento artistico del Cinquecento a partire da Giulio Romano poi ci lavorano Correggio e altri artisti ma c'è questa coincidenza straordinaria che fa sì che le due che due artisti di stature che adesso vengono considerate diverse naturalmente Paolo Veronese è conosciuto in tutto il mondo come un protagonista della triade Tiziano Tintoretto e Veronese dei grandi maestri del Cinquecento Veneziano Cambra lo sappiamo in quattro chi è e le tre pale di Veronese alla soppressione del monastero all'arrivo dei francesi finirono in Inghilterra una è alla National Gallery una è finita poi in in America con un percorso antiquariale così finita a Norfolk nel Museo Chrysler e un'altra è stata bruciata in un incendio nell'Ottocento di Lattanzio Gambra non si conosceva niente e toccò a me nel 91 appunto di ritrovare la pala ora B per banca in una casa a 100 metri da casa mia in una casa di Cremona a 100 metri da casa mia un collezionista l'aveva acquistata come se fosse Vincenzo Campi e visto il soggetto non so perché su Gambra avevo l'occhio ha detto no questo è Lattanzio Gambra poi guarda i documenti guarda la vecchia monografia di Padre Begni e di Vezzoli e scopro che è una delle tre pale fatte per San Benedetto in Polirone la conversione di Saulo un pezzo di pittura straordinario Paolo Veronese ottiene 35 scudi per ogni pala Gambra ne ottiene 32 non è che sia molto meno dunque un pittore estremamente considerato è un pittore che va a Venezia lascia tutta una serie di opere sia esterne che interne soprattutto murali però non ci rimane niente delle sue opere veneziane lavora a Asolo per un palazzo dei Contarini che ci rimane molto guasto e soprattutto ha questa produzione parmense straordinaria e il fatto è che si aggiorna nella sua produzione si aggiorna di continuo nel senso prima vede Romanino è a scuola dei Campi a Cremona torna a Brescia con Romanino lavora in San Lorenzo in San Faustino in San Teufemia sposa la figlia di Romanino eredita la morte dello suocero i committenti di Romanino e poi ha questi giri in cui si arricchisce si arricchisce dello stile di Pordenone da una parte di Giulio Romano dall'altra a Mantova di Veronese a contatto di gomito a San Benedetto Po e soprattutto è un protagonista di questo Michelangelo padano che si espande da Venezia dalla laguna dopo l'arrivo in laguna dei demoni etruschi come diceva sia Vasari che Longhi che inquinano in qualche modo lo stile di Tiziano e soprattutto arrivano a Venezia tra 39 e 42 Francesco Salviati e Giorgio Vasari a portare il manierismo in laguna e l'opera di Torino per esempio che vedrete è chiaramente segnata da questo momento lagunare da questo momento Michelangelesco molto forte è una sepoltura di Cristo in cui i personaggi sembrano esplodere nella tela non riescono a starci dentro quasi c'è un esibizionismo muscolare molto forte per questa mostra poi arriverò alla fine al quadro nuovo c'è una coppia del quadro questo quadro scusate di Torino è un quadro nuovo nel senso che stava sulla porta del corridoio della Sindone in Palazzo Reale a Torino me lo aveva mostrato qualche anno fa Alessandro Uccelli un amico che diversamente da altri suoi colleghi studenti un po' di anni fa invece di fare il professore fa il custode dai musei reali è un personaggio invece di una statura intellettuale e di una conoscenza veramente straordinaria mi lo segnali c'è questa qui una cosa che tu sai cos'è dopo la pulitura man mano che si puliva ho appena avuto una foto giusta ho detto questo qui è Gambara in un certo momento e questa è un'acquisizione il quadro di Pitti non si sapeva se era una coppia o se era una replica autografa dello stesso Gambara viene da Santo Stefano dei Cavalieri a Pisa la chiesa importante nella piazza dei Cavalieri alla destra per chi guarda del palazzo dove c'è la normale la scuola normale c'era un prelato bresciano che l'avevo ordinata io torno al palazzo Pitti dopo tanti anni l'avevo vista da ragazzo nella stanza della regina che è esclusa dalle visite non è nel percorso pubblico con la scala con la pila con tutto me la guardo bene mi accorgo che certo non è la Tanzio Gambara è una coppia ma non è una coppia di un pittore minore è una coppia secondo me che ho studiato tanti anni la tecnica esecutiva la stesura pittorica eccetera eccetera di Vincenzo Campi ovvero uno dei pittori cremonesi più importanti del Cinquecento di questi fratelli Campi presso i quali appunto Lattanzio si era educato presso il fratello più anziano Giulio in gioventù dunque una piccola mostra però con già delle novità scientifiche di rilievo veniamo alla pala con il compianto su Cristo morto con San Bartolomeo e qui anche qua c'è un risvolto abbastanza divertente che vi mostra come dire l'abbruttimento del conoscitore nel suo percorso di vita qualche anno fa mia figlia che adesso fa il dottorato di ricerca a Cafoscari a Venezia ha voluto prendere questa strada che non augurerei al peggior nemico mi fa vedere allora lavorava presso un antiquario di Milano mi fa vedere sul telefonino una foto non professionale del quadro che poi è stato acquistato io sto facendo le mie cose poi dico ci do un'occhiata distante ma cosa vuoi che sia lei mi dice potrebbe essere Gabbara no è una cosa toscana non c'entra niente e poi me ne dimentico totalmente io non ho un bel carattere in casa sono abbastanza brusco ma anche fuori chi mi conosce lo sa non se ne è fatto un problema e dopo un paio d'anni o tre da Doroteo da Vienna mi arrivano invece le foto professionali ma questo qui è Gabbara assolutamente Gabbara mi ero totalmente dimenticato di averlo visto prima faccio vedere a mia figlia ma non ti sembra Gabbara ma non ti sembrava Toscano per cui appunto qui è l'evoluzione la perdita di neuroni e cose di questo tipo per cui vedo un Gabbara è assolutamente un Gabbara guardo nell'elenco delle opere perdute nella monografia appunto del 78 in fondo c'è un San Bartolomeo c'è la descrizione e vengo a capire che il quadro arrivava dall'altar maggiore della chiesa di San Bartolomeo qui a Brescia in via Moretto appunto soppressa alla fine del 700 prima cosa da fare è segnalarlo alla Roberta Dada che ha subito passato la notizia a voi della fondazione e siete stati bravissimi ad acquisirla e farla restaurare alla Luisa che è un'altra delle care amicizie bresciane che coltivo da 40 anni circa e poi è bello avere figli parallele così ripeto Gambara va ristudiato soprattutto va messo nel posto giusto delle gerarchie pittoriche del 500 italiano non è secondo a molti altri pittori e vi ringrazio grazie 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 professore avete capito quanto è stato evidentemente anche stimolante lavorare quest'anno su questo progetto oltre ai mille altri che abbiamo seguito ma questo è un altro discorso su cui è meglio dissimulare per non incorrere nelle ire dei miei collaboratori che sono veramente preziosi ma stressati da questo nostro iperattivismo a proposito di collaboratori ricordo che questo progetto ha visto ovviamente il coinvolgimento della nostra area collezioni ricerca la dottoressa Dada coordinatrice di quest'area è qui ma ha lavorato evidentemente anche lo staff che si occupa delle mostre ringrazio Ilaria Turri ringrazio la registra di fondazione Natania Arici e ringrazio Piera credo che fosse la Piera che evocavi Piera Tabaglio ovviamente il progetto vi ho detto prima è stato allestito da Top Tag e quindi ringrazio gli architetti Nick Bellora Nicole Bonini e Francesco Carli ai quali si deve anche questa bellissima identità visiva che risponde alla nostra richiesta di mostrare un dettaglio di un'opera che volevamo tenere celata fino alla presentazione e questo dettaglio è davvero azzeccato e quindi li ringrazio ringrazio anche l'architetto Maria Repossi della fondazione che ha coordinato per la parte nostra l'allestimento insieme a Top Tag il progetto è arricchito da come è nostra prassi una serie di attività per adulti famiglie e ragazzi bambini nelle scuole quindi tradizionali visite guidate ma non solo anche per numerose domeniche la prima è il 28 novembre poi il 18 dicembre il 29 gennaio il 26 febbraio alle 15 ci sarà un laboratorio per le famiglie con bimbi dai 6 agli 11 anni per immergersi in queste sperimentazioni manieriste le scuole invece hanno un programma assai nutrito di attività anche in questo caso adeguate alle diverse età quindi scuola primaria secondaria di primo e secondo grado direi che va ricordato che questo programma si sviluppa nel museo di Santa Giulia ma evidentemente va inteso come una sorta di continuum con la nostra pinacoteca tanto che il biglietto di visita alla mostra consente la visita anche alla pinacoteca e viceversa l'acquisto del biglietto della pinacoteca consente la visita alla mostra inoltre nella logica di promuovere anche le altre collezioni evidentemente c'è una riduzione anche per chi viene in mostra sull'ingresso al museo di Santa Giulia credo di aver ricordato tutti intanto io Laura temporeggio per capire se arriva anche il signor sindaco bene allora lascio poiché questo momento è un momento che aggrega anche la stampa lascio evidentemente la parola agli amici della stampa se ci sono delle domande abbiamo il microfono rispetto a questo progetto altrimenti abbiamo la fortuna di avere il professor Tanzi con noi la nostra area didattica che si è occupata di queste attività che vi ho raccontato che è coordinata da Federica Novali ha previsto anche delle guide che in piccoli gruppi vi potranno accompagnare mi pare che non ci siano domande quindi io direi che abbiamo ben introdotto un progetto importantissimo per la fondazione vi ricordo che la settimana prossima apriremo un altro piccolo scrigno al pubblico che è un'opera ospite dall'Elemitage un Velasquez questa volta sarà in Pinacoteca dal 26 di novembre quindi vi ringrazio e buona visita a presto grazie grazie